La mia squadra mi ha fatto un'ottima impressione nelle due fasi, sia in fase difensiva che offensiva. Abbiamo lavorato di squadra, abbiamo messo in campo quello che facciamo durante la settimana e quindi ho chiesto ai ragazzi di leggere botta contro una realtà Montevacchi importante. Noi siamo una piccola realtà che si affaccia alla Serie D dopo 15 anni, quindi i ragazzi mi hanno dato prova che si sono giocati alla fare questa partita e quindi siamo molto contenti. Lei ha toccato la parola squadra, l'impressione è che voi vi chiudiate molto bene e ripartiate anche rapidamente un po', questa era la lettura di anche Mr. Calori in un'intervista che ci aveva rilasciato in settimana, aveva sottolineato. Avete accusato magari un po' la pressione del Montevacchi in avvio di ripresa, diciamo fino alla metà della ripresa? Sì, 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 noi siamo una squadra che cerca di difendere e attaccare tutti insieme con un blocco unico e quindi il nome squadra per me è importante. Abbiamo accusato all'inizio del secondo tempo anche perché comunque sia Davide Sesti aveva preso la lotta, ha sicuramente 4 punti sul mento, anche tutti insomma siamo rientrati un po' frastornati ma poi con i cambi abbiamo riequilibrato sono entrati molto bene anche Cagianese, Bruni, insomma tutti quelli che sono entrati al peggio. riequilibrato Riequilibrato